45 kg a persona di cibo gettato nella pattumiera per uno spreco pro capite di 117 euro l'anno. Cifre che a livello nazionale fanno ancora più impressione. 5 milioni e mezzo di tonnellate di alimenti per un valore di 12,3 miliardi di euro. Eppure, alla faccia della crisi, solo una piccola parte di questo cibo, il 6%, viene recuperata e ridistribuita grazie a enti caritativi o banche del cibo, mentre si potrebbe raggiungere tranquillamente quota 50%. E tante famiglie sicuramente ringrazierebbero, come hanno fatto rilevare gli esperti intervenuti al Politecnico, dove è stata presentata la ricerca realizzata da Fondazione per la Sussidiarietà dell'Ateneo in collaborazione con Nielsen, tra loro anche il Ministro dello Sviluppo Economico. È chiaro che le eccedenze dell'agroalimentare sono solo in parte recuperabili, ma se anche soltanto recuperassimo il 10 o il 20% di queste eccedenze, parleremmo di oltre un milione di tonnellate di cibo da far avere a coloro che ne hanno bisogno. L'appello è quello per uno sforzo congiunto da parte di tutti, dalle imprese della filiera alimentare fino alle associazioni di volontari che si incaricano della ridistribuzione, iniziando da comportamenti virtuosi già in famiglia, dove gli sprechi di cibo spesso sono una pratica giornaliera. E poi occorre un gioco di squadra con collaborazione tra istituzioni, filiera agroalimentare e realtà no profit, quale il Banco Alimentare. L'Italia in questo campo è già uno dei paesi che meglio funziona, ma proprio per questo può porsi l'obiettivo di raddoppiare quello che fa.